Sono tre i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata odierna. Rispetto a venerdì scorso, l'aumento complessivo è stato pari a 15 nuovi casi, su un totale di 5.761 tamponi analizzati, lo 0,2% di positivi sul totale. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.252 casi di positività al Covid-19 diagnosticati nei laboratori di Pescara, di Teramo, di Chieti e nell'ospedale dell'Aquila. Attualmente 112 pazienti, meno 10 rispetto a venerdì, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 621, meno 24 rispetto a venerdì, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 414 pazienti deceduti, più 10 rispetto a venerdì, 2.102 dimessi e guariti, più 39 rispetto a venerdì, di cui 170 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 1.932 che hanno risolto i sintomi dell'infezione, risultando negativi a due test consecutivi. Dunque, gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 736, con una diminuzione di 34 unità rispetto a venerdì. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 824 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1524 alla ASL di Pescara e 657 alla ASL di Teramo.